story time evoluzione radio ma anche su linkedin quindi se vi va seguiteci un po ovunque in modo tale da restare connessi con tutti i nostri contenuti detto ciò vado subito a dare il benvenuto all'ospite di quest'oggi sto parlando di Eliana Intruio ciao Eliana bentrovata grazie mille dell'invito buongiorno buongiorno a te come stai Eliana bene grazie molto emozionata devo dire però sorridente si smorza sempre con l'ottimismo e col sorriso come detto in presentazione Eliana è una blogger quindi praticamente quel giorno tu hai deciso di metter su questo blog esattamente è frutto di che cosa però l'idea di questo blog tutto da dove nasce allora in realtà io ho sempre scritto un po sia per passione sia anche un po per lavoro ecco alla fine diciamo un giorno era il primo gennaio del 2017 ispirata anche ai programmi televisivi che mostravano sempre queste mete meravigliose questi viaggi un po da sogno e dato che già viaggiavo parecchio ho deciso di aprire un blog per raccontare un po la mia esperienza e per descrivere un po la mia tipologia di viaggi per condividere le emozioni che provavo durante i viaggi e quindi il primo gennaio 2017 è nato proprio il primo gennaio ragazzi quest'anno inizio esatto esatto come si deve l'anno il 2017 quindi sono passati già sei anni sì 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 sei anni incredibili incredibili mi hanno portato a scoprire tantissimi luoghi che non conoscevo ma in giro per il mondo qui in Italia ma tutte e due in realtà anche se io prediligo viaggi che riguardano un po la prossimità il turismo sostenibile di vicinanza però ho viaggiato anche in parecchie parti soprattutto dell'Europa perciò mi piace anche andare all'estero se ti piace viaggiare però sei italiana sei avvantaggiata certo esatto sappiamo il nostro paese è bello in tutte le sue parti assolutamente dunque il tutto parte da Pavia esatto da Pavia che è una piccola città della Lombardia nel sud della Lombardia che offre tantissimo per quanto riguarda la storia la cultura tantissima arte tantissima tradizione no gastronomica poi abbiamo la Lomellina all'oltre popper cioè un territorio che offre tantissimo a livello turistico e che col blog cerco di valorizzare sempre di più proprio proponendo anche delle rubriche come scoprendo Pavia che si interessa proprio di tra virgolette scoprire luoghi anche poco scontati di Pavia anche poco conosciuti magari dai turisti che preferiscono magari andare da altre parti ma in realtà Pavia offre veramente tanto tu sei proprio originaria di Pavia? io sono di Broni non sono nata a Broni ma ho sempre vissuto a Pavia quindi insomma sono oltre poi pavese doc ci sta ci sta sì e ricordiamo però ovviamente il blog non l'abbiamo ancora detto Donna Vagabonda esatto come mai? come mai questo nome? allora Donna Vagabonda vabbè Vagabonda perché mi piace viaggiare e per me è praticamente una malattia nel senso che una bella malattia sì una bella malattia perché io quando viaggio sono serena sono felice mi riempio proprio di gioia quindi mi fa proprio stare bene a livello emotivo e fisico Donna perché volevo dare l'idea che anche una donna può viaggiare da sola e può fare dei viaggi che tutto sommato non sono nulla da togliere rispetto a viaggi che potrebbero essere più complicati o adatti magari a persone più preparate c'è quest'idea che spesso una donna non può viaggiare da sola in realtà la domanda è perché? esatto perché? beh è chiaro che bisogna sempre mantenere certe precauzioni ma questo vale sia per gli uomini che per le donne quindi volevo assolutamente marcare questa cosa che anche le donne possono fare tutte le esperienze che possono fare gli uomini esatto ma com'è giusto che sia nasce dunque insieme ai canali social anche proprio il blog donnavagabonda.com giusto? sì esatto ti chiedo cosa troviamo all'interno di questo sito? allora all'interno del sito ora come ora siamo a circa 450 articoli ah pochini insomma non sono proprio pochini ma si scherza sono tantissimi sono tutti iscritti da me e ce ne sono alcuni che sono ad esempio articoli iscritti a più mani in collaborazione con altri viaggiatori e con altre blogger soprattutto donne e poi all'interno ci sono sia appunto articoli che descrivono luoghi particolari che io chiaramente ho visitato perché scrivo solo di luoghi che ho visitato non scrivo mai di luoghi che non ho visitato e questo già non è una cosa banale perché magari c'è chi si lancia esatto perché voglio comunque portare la mia esperienza sul blog e poi ci sono chiaramente tutte le mie fotografie perché tutte le fotografie che ci sono sul blog dove insomma dove non è specificato diversamente tipo negli articoli di collaborazione sono tutte mie quindi sono tutte scattate da me anche questa è una cosa importante dunque passiamo ai social donnavagabonda blog su facebook donnavagabonda su instagram donnavagabonda anche su youtube giusto? esattamente c'è anche qualche altro canale sono questi i tre prevalenti cosa troviamo all'interno di questi canali? allora all'interno della pagina facebook che poi si collega anche con il gruppo facebook che si chiama appunto donnavagabonda vengono pubblicati tutti i giorni dei contenuti sia riguardanti il blog quindi la condivisione di articoli sia dei consigli di viaggio e anche degli eventi sia del territorio pavese che perché no anche di altri territori lombardi o meno all'interno invece di instagram troverete le mie fotografie che appunto ripeto le scatto io e quindi ho il piacere di condividerle con voi all'interno invece del canale youtube trovate sia esperienze che magari ho fatto con altre blogger sia alcuni video sia di fotografie che video proprio video che invece realizzo con la mia gopro quindi si trova insomma tutto del materiale che creo io tutto tutto ma tu hai una diciamo una predilezione verso il paesaggio montuoso collinare cittadino mare allora io per mia formazione universitaria sono naturalista quindi mi piacciono e bisogna dirlo questo è importante mi piacciono i luoghi naturali perciò mi piace fare escursioni però mi piace fare attività che sono adatte a tutti non per forza da scalare il monte bianco a piedi nudi voglio dire cioè deve essere qualcosa che si possa adattare a tutti soprattutto deve essere qualcosa di sostenibile e che non nuocia insomma che non faccia di pericoloso tra virgolette esatto sia alla salute che all'ambiente però io ho visitato tantissime città tantissime capitali tantissime anche città piccoline dei borghi perciò mi piace sia alternare le escursioni in natura con le visite in città fantastico allora non posso non chiederti Eliana il tuo viaggio più bello se vuoi puoi farmi anche il podio puoi farmi anche la differenza tra capitali quindi le città quelle belle e importanti e un altro podio magari per i borghi sì perché no beh chiaramente è la mia opinione personale eh beh certo sicuramente uno dei viaggi che mi ha più cambiato sia come persona ma che poi ha dato il via anche una bella spinta a questo blog è il viaggio che ho fatto nel 2014 in Madagascar ah quindi hai ripreso nel tuo blog anche quelli passati ovviamente ah ok questo era giusto giustamente sottolinearlo ok quindi questo viaggio che è stato un 15 giorni nella natura una full immersion sì esatto è stato un viaggio incredibile veramente emozionante se invece vogliamo rimanere in Italia sicuramente un altro viaggio che mi ha tantissimo ispirato è stato quello che ho fatto nel 2020 appena terminato il primo lockdown ok quindi prima dell'estate sì era luglio ah era luglio eravamo in estate ok in estate ed è quello che riguarda i castelli romani quindi ho fatto un on the road in auto e da Pavia sono scesa fino alla zona dei castelli romani ah beh nella città eterna è esatto in realtà l'ho sorpassata e sono andata più a sud proprio nel scoprire il territorio romano quindi Ariccia ah ok ok quindi ad esempio Grotta Ferrata Nemi questi piccoli borghi che forse non sono così tanto conosciuti ma che si stanno veramente tanto aprendo a un turismo responsabile uno di solito va al Colosseo io ci sono stata cinque volte ah vedi però non mi basta ci tornerei quindi ci mancherei e Roma è veramente splendida come capitali vabbè a parte Roma chiaramente capitali italiane ad esempio una che mi è piaciuta particolarmente devo dire che è stata Praga che l'ho visitata a Pasqua dell'anno scorso quindi una visita abbastanza fresca un viaggio abbastanza fresco che mi ha davvero lasciata in maniera sorpresa anche io ci sono stato devo dire a quell'impatto carino sistemato tutto in ordine molto molto piccolina però molto valida come meta altrimenti se dovessi dirne un'altra ad esempio Vienna Vienna mi è piaciuta davvero ma Praga anche dal punto di vista culturale non male ah chiaro certo assolutamente non male davvero benissimo guarda Eliana io ti terrai ore e ore anche io sarai qua ore e ore però ti chiedo magari il tuo prossimo viaggio ci hai pensato già? allora sì sì certo diciamo che amo programmare in ogni minimo dettaglio del mio viaggio quindi già le mete sono stabilite non avevo dubbi allora il prossimo viaggio sarà appunto per la prossima Pasqua quindi fra meno di un mese sarà a Trieste ah Trieste come mai? come mai? Trieste è una storia un po' travagliata nel senso che è tipo la quarta volta che sto cercando di andarci ma tra il covid e impegni lavorativi poi problematiche varie ed eventuali alla fine spero che questa sia la volta giusta sa da fare speriamo spera che questo viaggio sa da fare eh dai Trieste su sì Trieste 392 64 10 852 l'indirizzo mail è donnavagabonda chiocciolagmail.com giusto? esattamente Eliana dimmi la verità qual è il tuo sogno con questo blog? ti piacerebbe aprire qualche collaborazione? qualcosa? ci hai pensato? beh allora dimmi tutto sicuramente collaborazioni sempre aperte io amo collaborare sia con altri viaggiatori sia con gli enti locali gli enti del turismo chi si occupa appunto di turismo in generale e quindi già in questi sei anni di blog sono nate delle collaborazioni devo dire anche delle amicizie davvero belle che sono state belle da coltivare che ancora oggi ci permettono di fare viaggi incredibili come quello che ho fatto l'anno scorso in Umbria sì e perciò sono davvero contenta che il blog abbia portato anche a questa rete il sogno diciamo in donna vagabonda è proprio far vedere che un modo diverso di viaggiare è un modo consapevole di viaggiare è sostenibile esatto è possibile sia da parte delle donne chiaramente e sia da parte degli uomini delle famiglie e quindi cosa aspettate? unitevi alla community della nostra Eliana seguitela su Facebook, Instagram e Youtube e mi raccomando monitorate anche il suo blog tanto ormai ne ha scritti circa 450 ce ne saranno tanti già la prossima settimana ne escono due uno lunedì e uno venerdì se non scrive viaggia ragazzi e quando viaggio scrivo quindi siamo a posto fantastico si è raccontata qui negli sui di Storytime Eliana Intruio che ci ha presentato lo ribadiamo ancora il suo meraviglioso blog Donna vagabonda Trieste arriviamo e non solo poi chissà quali altri viaggi riserverà per il futuro intanto seguitela mi raccomando Eliana ti salutiamo e ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per tutto grazie mille è stato un piacere piacere tutto nostro grazie alla prossima alla prossima ciao arrivederci Storytime Evoluzione Radio